Signore, prebondia nell'anima le dolcezze estreme, nel bacio freme amor. Premo nell'anima le dolcezze estreme, nel bacio freme amor. Dammi il braccio mia piccina, mi viene incontro, io sono estreme, obbedisco signore, e mi prende un braccio, poi tutte e due. E mi ha fatto un appunto, poi mi ha detto sono la cantante tale e tale del tale, e io sono il saldatore, mi ha abbracciato i complimenti. Poi mi ha detto perché da giovane, perché furiamoti, ha capito che ci mancava, non ero un professionista. Perché non hai studiato? Eh sì, quando ero giovane io ce l'ho andata a lavorare, 20-16 anni così, ero fatto la classe. Delle belle avventure, guarda, ma è vero, ti giuro, ti immagini te, quando io ti ho detto dammi il braccio mia piccina, io mi dico obbedisco signore, arriva delle ragazze là, è qua il concerto ragazze. Oh soave fanciulle, oh dolce viso, dimmi chi sconfude al balunar. Tenite, facciamo il concerto. Stiamo cantando, non offendete così ragazze, stiamo cantando. Ma la fì, sono morto, sono morto. Stiamo, eh? Stavamo cantando. Cioè, voglio cantare la master. E poi ho fatto la mia, sono sul computer anche, non lo fate dire. Fate YouTube, va ragazze. Siete di conca dall'altro? No, è italiano. Freca giaglio, bravo. Lui è nel coro di chi d'è? Non lo vede. Eh no, Napoli. L'ho visto ieri chiedi. Eh beh, nel coro mi invita non io, ma però mi piace. A noi non mi spiace quando ora. Eh ragazze, non lo fate quando ora. Eh, 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 ragazze, non lo fate. Eh, ragazze, non lo fate. Gigi! Cosa vi piace, no? Eh, Gigi, no, 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 no.